Come è andato il tono di quest'anno? Mi stai filmando? Diciamo che da buoni vecchi abbiamo ingranto un po' tardi, nel senso che abbiamo vinto la prima partita perché non potevamo perderla, ma poi abbiamo perso a Raffica in tutto il subito un 25 a niente e poi improvvisamente si è scaldati, nel metà pomeriggio è cominciato a vincere delle gran partite anche con squadre molto forti finché si è scoppiati perché abbiamo quelle due o tre partite di buono e poi... E l'anno prossimo? L'anno prossimo visto che sto perdendo i pezzi, non lo so, penso che le mie stagioni pallavolite che siano più o meno quasi terminate, qualora vedo che vedrò e riuscirò a uscire dalla tomba, ad auto riesumarmi, vedremo, non lo so, ma è tutto una sorpresa. Quindi rifai ancora gli Open? Beh sicuramente, se li fa Ferrari li posso fare anche io. Ma lui ha dichiarato che farà gli amatori l'anno prossimo, lui ha detto che non si fa tesserare per fare gli amatori, ha dichiarato poco. Davvero Ferrari farà gli amatori l'anno prossimo? Con me li farà gli amatori, come sempre premiamo la squadra che viene da più lontano. Voi poi dicevi che... No io è cubano, non posso, siccome i cubani non sono tesserati in Italia faranno gli amatori con me. Ah ok, ti ringrazio.